I Follito da giocare a Morgani dopo la vittoria con la Bagnolessa ci ho fatto sette giorni prima nel finale del match. Di fronte a una Tritium rinnovata dalla proprietà pacchetto giocatori, ben 14 volti nuovi, compreso anche il neo direttore sportivo, abita la gara Ciro Aldi della sezione di Lanciano, coadjuvato da Stefano Carchisio della stessa sezione, domenico Lombardi della sezione di Chieti, terna dunque tutta abruzzese. La Tritium parte sull'acceleratore ai crash di Lamberti, nesca in corsa la corrente Salami che deposita la sfera a fondo campo. A secondo tentativo la Tritium passa, attraversione di Maspero, la difesa del Forlì allontana parzialmente la sfera, sul piede di Garcia che indovina l'incrocio dei pali alla sinistra di De Gori, per 1-0 ospite. Ma la Tritium si fa male da solo a poco dopo, in fase di disimpegno Rebolini colpisce palle gamba di Ballardini in piena area di rigore. L'arbitro avendo la visuale libera non ha dubbi, decreta il penalty per i padroni di casa. Dal dischetto si presenta Borrelli che non sbaglia, ristabilendo la parità in campo. Lo scambio Garcia-Gobi dall'altra parte porta a tiro quest'ultimo, pallone che si alza di poco sopra la traversa della porta difesa a De Gori. Il Forlì crea anche la palla più importante del primo tempo, da cross di domenici Ballardini di testa mette fuori di un nulla. Sono ancora i biancorossi protagonisti a chiamare all'attenzione l'estremo ospite migliore. Un altro errore in fase dell'allontanamento permette alla Tritium invece di conquistare palla. Garcia allarga per Gobbi che da posizione di filata calza alto. La replica De Forlì affidata a traversione di Borrelli, tiro cross sporcato dall'involontaria deviazione della retroquadria ospite con migliore che viene beffato 2-1 per i biancorossi. Finale di tempo con questa traversione di Gersos per la testa di domenici, Forlì che sfiora nuovamente la marcatura. Nella ripresa Fabiani la combina grossa, verde ruba palla ma trova migliore a Negalli la gioia del gol. La Tritium cerca i pari, la concursione dalla distanza di Maspero è un campanello d'allarme per gli uomini di Mister Gadda. Tuttavia i Galletti provano a chiudere ma Petrucci e Damaducci trovano migliore, pronto all'esame. Dal rinvio proprio del portiere scatta la quasi beffa con il nuovo entrato Doria che vede il proprio tentativo salvato sulla linea di porta. Forlì che lega l'iniziativa agli avversari come questo disimpegno errato ai Balardini che manda al tiro Gobbi. De Gori ci mette una pezza ma i gol è nell'area e dall'angolo Messina di testa mette le cose a posto. 2-2 e ristabilita la parità in campo. Sarà questo il finale al Morgani.